Grazie a tutti. Partita la prima serie assoluti maschi, Jean Dencos al primo passaggio, primi 50 metri, 29,76, su Alberto Pesce, 31,46, in terza posizione, Ayrton Sweeney, 31,58, il record della manifestazione e dell'edizione del trofeo di Treviso, 2016, Jared Cross, 12,80. Passaggio di metà gara, mantiene la prima posizione, Jean Dencos, 1,04, 0,4. 34,28, i suoi secondi 50, sale in seconda posizione, Ayrton Sweeney, 1,05, 99, 34,41, i suoi ultimi 50, siamo quasi al passaggio dei 150 metri, terzi 50. Gian Dencos, 1,38, 80, 34,28, i suoi terzi 50, si accorcia il distacco da Ayrton Sweeney, un secondo nel 94, siamo agli ultimi 25 metri di gara. Gian Dencos, in corsia 5, Ayrton Sweeney, corsia 4, si va ad aggiudicare questa prima serie, 200 metri di rana assoluti maschi, il corsia numero 5, Jean Dencos, 2,14, 13, seconda posizione per Ayrton Sweeney, 2,15, 76, terzo posto per Marco Primo, Guernier, 2,23, 50. Grazie a tutti, grazie a tutti.